Siamo con il professore Gioia Lobbia, docente di chimica all'università di Camerino e ormai anche esperto di musica. Sì, per me è la terza edizione consecutiva nella duplice veste di coordinatore della componente studentesca come Camerte, naturalmente membro della giuria. Questa manifestazione di musicultura, come ne è sembrata finora? Ma è certamente di alto livello, specialmente quest'anno siamo come giuria imbarazzati perché tanti talenti nuovi si sono presentati e credo che avremo difficoltà a sceglierne 16. Quindi il livello è decisamente alto? Certamente, sia da un punto di vista per quanto riguarda le sonorità sia per quanto riguarda anche i testi, ma i banali. Cosa ne pensa di musicultura festival? In musicultura io l'ho definito un cluster dove creatività, intelletto ed espressività occupano le giuste posizioni strutturali. Da chimico l'ho definito come un distillato raro di classe e intensità.